Ligue 1, Mbappé ed il Monaco sempre più distanti Nonostante un inizio davvero importante, non esiste tranquillità in casa Monaco, dove continua a tenere banco la difficile situazione di Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato dall'equipe, infatti, il talentuoso attaccante francese avrebbe smania di trasferirsi al Paris Saint-Germain, dimostrandosi smanioso di andarsene. Tale atteggiamento sofferente, avrebbe portato ad un litigio tra il classe 98 ed Andrea Raggi, con conseguente allontanamento del ragazzo di Bondi. Un comportamento poco maturo, che ha costretto Yardim a sospendere per un momento l'allenamento, con gli altri giocatori obbligati a cambiare campo. Da un mese a questa parte, il francese non ha mai troppo celato la voglia di andarsene, nonostante la timida opera di convincimento adoperata dal tecnico e dalla società. Non convocato contro il Mets, Mbappé non rimane che attendere sviluppi sul suo destino.